a la mia mitralettrice offenderà ok, tu sei dorato, bello ormai è troppo tardi no però su serio, ho la levi serpente e sonagli leggendari che tutta d'oro ultimo devo provare a fare delle prime uccisioni con la mini smg cioè la maxim ah albi oggi ho fatto la segnazione con quella delle mini h e oh quanto godeva madonna con la doppia finale pure? pure una doppia? si si, madonna hai fatto una fatica si, assolutamente cioè improponibile se sei sennò nel gucchista non ce la farai mai è vero ora vediamo se c'è qualcuno lassù è nessuno colpito 8 la mia prima uccisione con la smg mini eeeh sono un bimbo felice qualcuno mi doni 2 euro ora così la mia seconda uccisione con la smg eeeh sono veri 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 che bellina che è però c'è ci sono la mia l'obbedevo sul città ah no è già sul città vabbè vabbè andiamo a sussidere vabbè poi c'è un città che si fa una morte e stai io che si fa una morte per che senti nel oh no peccato il trotto perchè il nostro medico hai detto medico da dun da dun da dun mio dio dalla distanza oh mio dio sento non so se è lag cos'è del tipo? eh quando muovo la visuale vediamo se sono gli fps dove è albi? eh eh tipo sulla mia destra dove sono morto sono in due cioè due medici no adesso c'è un medico uno salto un cecchino di dietro eeeh vabbè tu hai ucciso digià eeeh e ti stanno per lanciare la dinamite ti stanno lanciando la dinamite scherpa mi serve il medico cazzo ti sono con te mate non ti preoccupare ma grazie non ti preoccupare che adesso ti difendo e morirò per te ragazzi ti amo grazie ah voci di un granada lì c'è un po' di gente hai visto ho ucciso oh mio dio oh mio dio ragazzi ma la smg è buggatissima ah toto sono lì sotto sono morto sono in mezzo alla neve è fredda ho paura ah non scendi dalla finestra porca boh ah voi va coca toto volante no 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 scappa toto scappa 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 no ah non c'è chi no in fondo non deve fare ok retrocedo ciao stato bello ciao ciao ma ci vede shock poi non fate come me scappate perché 49 colpi sparati e non sentirli ok vi do l'obiettivo subì ragazzi ok oh ma che è ok chi è vabbè ma ammazzare la gente in modo no m'hanno ucciso pur cucane con le m15 ma perché adesso da sentinel muore così facilmente per l'ultimo se muoio per amore dobbene allo stesso posto ok perchè adesso stanno in grance per le prove ci sono se c'è la grata case che è soltanto se c'è finito l'effetto o lo dicevo rizzo e come domicile di tecniche Oh, questo qui c'è l'aperino, questo vince tutto, ragazzi. Era meglio di no, devo farmi i cazzi miei. Stava meglio tutti. Ma se ne soppertino è semplice, mi distendo e mi impiazza col bipo e te ammazza chi passa. Bravissimo, adesso però morirai, stronzo. Perché lo dice, lo esige il signore. E spero che sia bacato lo spawn e spawno dietro. Ho sporato dietro! Che c'è il serio? Sì, ahahahah. Poi c'erano quei tre là davanti a noi nel nostro spawn, non capisco. Sì, ma in quanti hanno sparato a questa casa con il lanciarazzi e tutto? Cioè, in 36 hanno sparato? Rio, rio. Ok, topo. Quanto odio il Federo adesso. Sono caduto di sotto. Il mio cadavere è a fianco a uno che non conosco. Chi sei? Ho detto il cazzo, sto cuomo cos'è? È l'assalto che spara così o... Non è che è l'autocarro. Federo, campra col Federo. Grazie, albi. Muori, aspetta. No, no, no. Alcatru! Maledetto, confederò! Un di mordo, moledetto! Sozzo! Mi è dato in culo, te. No, no, no. Non avete idea dalle ombre a cosa si vede? Ciao! Ho un cavalluccio. Ti curo io, ti preoccupare. Ah, little pony. Sceguitemi, mi porterò nel mondo delle fate. Sì, voglio andare dove ci sono gli arcobaleni, aspetta, ti voglio sedire sopra, fermo. Mettiti vicino alla coda e vedrai gli arcobaleni. Eh, si importa che non caghi questo cavallo, perché... Aspetta. È quello l'arcobaleno. Oh, no, aspetta, fermo, fermo. Oh, c'è una mina, no, fermi, no, dai, c'è una mina, è mia, è mia, è mia, è mia, è mia, supporto a qualcuno. Figuro, Matteo. Inversi di qua. Oh, si fermo più sto cavallo! Come si fermo? Come si fermo? Come si fermo? Come si fermo? Oh, 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 oh. eh no eccola qui, oh che culo io ho preso il federo del nemico in poche parole ho cominciato a vedere da lì non è da pasqua e dai non è da pasqua ancora un po' ragazzi è capo addirittura sto così ma cosa stavo sparando mico colpito 98 giuro che se lo colpisca con la bodeo da qua ok devo ricaricare yep guarda guarda quello è andato ma se voi ho ucciso sei un secchi uno con l'ebel sopra la torre della campanile non lo vedi è un colicato ma bastardo Il mio cavallo è cascato sopra una persona morta Oh ma è bella, ci sta un botto quando fai le kill così Smatrice Era vivo quello là, no 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 Stai di servizio col Gewehr Ma chi era il genio? Che è successo? Bellissimo, sono andato contro un cecchino e il cecchino mi ha ucciso Si è messo dentro un muro, poi è uscito il cecchino nostro L'ha guardato, ha tirato fuori la pistola, l'ha mirato in testa E gli ha spiro, l'ha sparato in testa Da un centimetro tipo E' un dio E' un dio Guarda Oh mio dio E' bellissimo Ti giuro è proprio bellissimo, è arrivato lì, l'ha guardato Tirato fuori la pistola, boom, in testa Con tutta la calma del mondo poi, che bello Si si è uscito, il cecchino guarda L'altra parte, boom Bella, bella, ci sta, ci sta Grazie 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 Grazie